Mauro Febbo giudica fallimentare la gestione dei fondi europei da parte della Regione, soprattutto per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale. A certificarlo, sottolinea il consigliere regionale di Forza Italia e lo stesso Ministero delle politiche agricole, l'Abruzzo, avverte Febbo, sarà costretto a restituire ingenti risorse che sarebbero indispensabili per l'intera economia regionale. Sono 480 milioni di spesa pubblica a cui vanno sommati altri 650-800 milioni della spesa privata, quindi per un impegno complessivo di 1,2 miliardi, 1,3 milioni che non riescono a essere spesi, non riescono a essere immessi nell'economia regionale che riguarda il comparto agricolo, ma oggi il comparto agricolo significa anche no gastronomia, significa ricezione, significa ristorazione, significa turismo e io mi permetto di dire ci metterei anche un po' di cultura. Siamo arrivati al 31 ottobre 2015, i dati confermano questo trend negativo che noi stiamo denunciando oramai da mesi, se non da anni. Ogni volta ci vengono dette le solite cose, che si recupera, che si recupera. Passiamo arrivati all'ultimo step utile, cioè al 31 dicembre 2018 e restituiremo purtroppo oltre 24 milioni di euro alla Comunità Europea. Noi ci auguriamo e il nostro auspicio è quello che in questi ultimi scorci di legislatura ci sia un'inversione di tendenza, che ci sia magari la creazione di una task force che dia la possibilità di recuperare queste somme, di recuperare soprattutto perché oggi restituire i soldi a Bruxelles è un danno enorme all'economia regionale, attuale, ma lo sarà soprattutto per i mesi e per gli anni successivi. Chi oggi non riesce a spendere avrà doppia penalizzazione, quella che toccherà a tutti più quella che toccherà a chi invece ha rimandato i soldi indietro.